Il boato più bello, l'urlo liberatorio in casa Messina è arrivato proprio in extremis. Nella sfida di ritorno dei play-out allo scoglio, il gol di Ragusa è giunto a meno di dieci minuti dal novantesimo ed ha regalato alla squadra di Raciti la salvezza in Serie C. Obiettivo meritato per quanto offerto dai giallorossi nel girone di ritorno. Le parole di Raciti alla fine della gara di ritorno dei play-out. Siamo veramente tutto una cosa, ma non solo con me, con lo staff, con tutti. Siamo riusciti a fare un gruppo importante, questa è la fortuna che ho avuto. Ma io quando dissi che ha azzerato il campionato, finito il campionato, si azzerava tutto, non lo dicevo a caso. Perché queste sono partite dove poi conta tanta l'esperienza, conta gestire l'emotività, conta la condizione atletica, conta come ci arrivi. Ed è stata una doppia partita difficile, credetemi, è stata difficile in tutto. Nel prepararla, nel viverla, nel vincerla poi. Non abbiamo un progetto a lunga scadenza. Sono stato chiamato dal presidente con l'obiettivo di salvare il Messina. Ci sono riuscito per la seconda volta. È la terza volta che mi riesce in questa categoria di salvare squadre. La prima volta a Siracusa e due volte a Messina, che sembravano quasi disperate. Il percorso dice che in 60 partite ho fatto 90 punti con squadre che lottavano per retrocedere. È un bottino abbastanza importante. Però poi per quello che sarà il futuro, dipende dalla società e da tutto. Io l'unico consiglio che potrei dare è quello di non disperdere questa squadra, così come è successo l'anno scorso. Chiunque poi venga ad allenarla, però, di lasciare questo gruppo perché è un gruppo veramente fatto da uomini veri.